Terza corsa è lo sfollamento del derby del Trotto, Memorial Franco Albonetti, 1600 metri, 8 al via dopo i tiri di Tiziana e Toscanini Griff, Time Wise AS, Tomo Sdaghi, Tarek, Teorema Spine e Top Day Model, i 5 superstiti in prima fila, seconda fila per Trofeo di Luni, Tommy dei Ronchi e Type Anans, Di Galoppo prima del via Top Day Model, allo stacco prova ad emergere all'esterno Teorema Spin che è stato più veloce di Time Wise AS, quest'ultimo prova a rientrare ma Teorema Spin insiste di precisione, scavalca l'avversario, il lancio di Teorema Spin è in 13,4 nei confronti di Time Wise AS, poi Tarek, la quarta posizione per Trofeo di Luni, a precedere Tomo Sdaghi, Tommy dei Ronchi, Type Anans ad inseguimento Top Day Model, mezzo giro iniziale in 36, va forte il Teorema Spin nei confronti di Time Wise AS, è deciso nella risalita Tommy dei Ronchi, ha girato una tenue opposizione di Tomo Sdaghi che puntava solamente a prenderne la scia, a largo si è mosso anche Type Anans, ora c'è rallentamento da parte del leader e quindi si va costruendo una nuova situazione tattica dopo mezzo miglio in un minuto secco con Tommy dei Ronchi al lato di Teorema Spin e Time Wise AS che è chiuso in corda da Tomo Sdaghi, una terza pariglia composta da Tarek e Type Anans, quindi Trofeo di Luni. Il chilometro nel frattempo in 1,14 e 8 per Teorema Spin che reagisce a Tommy dei Ronchi, Time Wise AS lungo la corda che ha il problema di trovare spazio, al suo esterno c'è Tomo Sdaghi, il gruppo è compatto quando siamo al paletto dei 400 finali, 1200 metri in 1,29,1 con Tomo Sdaghi che accenna la terza ruota a largo di Tommy dei Ronchi, Teorema Spin che è sempre in vantaggio e Time Wise AS che non ha spazio dalla corda, all'esterno Tommy dei Ronchi, più in fuori Tomo Sdaghi, poi ancora Tarek, Teorema Spin alla corda, Tommy dei Ronchi e Tomo Sdaghi che attaccano, imitati più in fuori da Type Anans, Time Wise AS che è senza spazio, lo cerca ma non lo trova, Teorema Spin alla corda, a largo Tomo Sdaghi fra i due Tommy dei Ronchi, poi Type Anans, sul palo, Teorema Spin si salva ancora, mentre sbaglia proprio in vista del traguardo Tomo Sdaghi, probabilmente prima del palo e allora secondo dovrebbe essere Tommy dei Ronchi, andiamo a rivedere il finale concitato, 1,58,7 sul mio cronometro con Teorema Spin alla corda che reagisce agli attacchi Tommy dei Ronchi, tra i due cerca spazio ma non lo trova Type Wise AS, all'esterno c'è Tomo Sdaghi, più in fuori Type Anans, sul palo vedete che Teorema Spin si difende da Tommy dei Ronchi e Tomo Sdaghi, quest'ultima è di galoppo e allora vittoria a Teorema Spin per una testa nei confronti di Tommy dei Ronchi, mentre terzo dovrebbe essere Time Wise AS davanti, no scusate, terzo dovrebbe essere Tarek filtrato all'interno di Time Wise AS davanti a Type Anans, dovrebbe essere 6-9-3, l'arrivo ufficioso con l'errore in zona proibita di Tomo Sdaghi, la vittoria di Teorema Spin da un capo all'altro con partenza perfetta colta da Mario Minopoli Jr., in salchi al figlio di From Above e vi dicevo 1,58,8 sul mio cronometro, media di 1,14,3 naturalmente ufficiosa. Grazie a tutti.